Mister, oggi 90 minuti in casa per il primo play-out, il San Desiderio è spinto anche dal suo pubblico, ci ha provato, ha fatto il possibile 0-0. Adesso bisogna giocarsela tutta a Casarci. Risultato giusto, andiamo a Casarci a giocare per vincere perché abbiamo solo quel risultato lì, non possiamo pareggiare, altrimenti siamo retrocessi, andiamo lì ce la giochiamo, proveremo a vincere. Bella prova di Fassone oggi, anche dei neointrati, non è bastato, il Casarci ha tenuto bene in difesa. Non sono d'accordo con te per quello che riguarda i cambi, però speriamo che domenica chi entra ci sia una mano in maggiore, un po' più concreto.